I compensi dei lavoratori della sanità privata, equiparati a quelli della sanità pubblica, è il centro chirurgico toscano nel territorio aretino a fare per primo questa scelta. Tre giorni fa è stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto per medici ed infermieri che operano nelle varie case di cura in discussione da 14 anni, ma ad Arezzo l'aumento salariale era già in atto da tempo. Al centro chirurgico toscano e alla clinica di riabilitazione toscana gli stipendi erano già stati adeguati. Orgogliosi, afferma Stefano Tenti, direttore del centro chirurgico toscano, di aver dato una spinta significativa al rinnovo del contratto nazionale della sanità privata. Il medico e manager aretino inoltre auspica che la regione toscana applichi gli accordi sottoscritti in sede nazionale in modo tale da consentire a tutte le case di cura di comportarsi nella stessa maniera senza squilibri economici. Per noi, afferma ancora Tenti, è stato un modo per ringraziare concretamente, non semplicemente chiamandoli eroi, coloro che specialmente durante il lockdown hanno lavorato oltre le normali aspettative.